Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre UchikaGamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance Stiamo qui come potete vedere nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta ovvero nella mappa diciamo nella mappa del mondo E stiamo qui dove possiamo scegliere i vari mondi da visitare Ma visto che alla città di me l'abbiamo completato come potete vedere solo con Sora io direi di tornare qui Però di cambiare personaggio vuoi cadere e cambiare personaggio? Sì Lenta la caduta lì va all'ottere Conferma E procediamo Così andiamo con Riku Olè Ed eravamo esattamente qua E dobbiamo cercare gli altri se non erro Questi Livora su ogni qua non è che siano tanto forti Anzi Sono anche piuttosto debolucci Dovevo capire bene dove dobbiamo andare Ma è che qua è tutto chiuso Lì è chiuso Da lì non si può andare da nessuna parte L'unico accesso è questo Ahia Ok Allora E E Qua siamo qui E provare ad andare lì Questa è la bellissima Traverse Town Mi ha distratto uno poi Tra l'altro Chi è? Perché questo mi attacca da dietro? Antipatico che non sei altro Ahia Ah Eh Che cosa se non lo vedo? Ok Allora Possiamo andare di qua E qua non erro E dove eravamo andati l'altra volta? Possiamo qua Andiamo a provare ad andare di qua giù Ok Il bellericcio A livello 7 Ok però io non capisco Portiamo i segni la chiave lì Però lì c'è qualcosa secondo me Andiamo a vedere Eh perché Io mi ricordo che qua con Rico abbiamo girato tutto Però qualcosa dobbiamo fare No Nonne Non appaiono sti cosi Wow Perché sono Vai muori Allora Posso Posso vedere la mappa? Oh Facendo cosi Oh Ma già aumentata Rico Quindi Usciamo E siamo qua Oh Perché adesso non mi fai affa- No Devo essere qua Io c'ho il punto di salvataggio Quindi Proviamo ad andare qua Ah però c'è una scatola Ma non so come pigliarla Forse mi serve un'abilità Che adesso non ho Ah Oh Ahia però Ok Ma devo capire bene Dove devo andare Ahia 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 Allora Rintraccia Joshua e Beat Quarto distretto Ok Ok Olleh Eccoci qua Ok 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 Non starò a sentire quello sfigato Ok 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 Peccato che voli quello però Come ci arriviamo là? Ok 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 Olleh Però è diverso dalla scimmia che abbiamo affrontato Ci sono degli... Aia! Si però che è così? Non li vedo neanche arrivare Ok 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 Allora Aia! Dov'è? Ok 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 E' senza mani adesso Ah però Oh Ok Questo Stia così a levitare però è bruttissimo E' scomodo E vabbè più in alto non puoi andare eh Si però Si però Così non è leale E' troppo in alto lui Non riuscire a prendere una mano e tagliargliela L'opportunità è che le mani hanno poca vita Ok Ok Però Così non è leale Perché è scomodo che lui stia così a fluttuare in aria Mentre io devo colpire solo da terra No Ehi! Poi a stunnarlo Cioè Non è proprio il massimo Vai così che è quasi finito dai Dai che l'abbiamo così battuto Ma tu Oh E' un po' scomodo perché fluttua Però ce l'abbiamo fatta Voilà Voilà Bene E anche col ricco ce l'abbiamo fatto Ehi, cosa è questo? Cosa vediamo? Questo è davvero messo, ragazzi! È proprio qui in fronte di me e non posso capire! Se i tuoi cerchi sono collegati, ti riuscirai a capire! Rhyme! Neku! No, quindi noi siamo i partner loro, ok... Cioè, vabbè, noi eravamo il partner di Sora e lo sapevamo... Uh! Aumerteschio! Vabbè, quella è la stessa che abbiamo ricevuto da... Con Sora, ok... Eh, che figata! Questa è Neku e deve andare con quell'altra, ok... Vabbè, loro si sono ricongiunti, noi no! In loro mondo, qualcosa succede che ha portato il loro esistente all'inizio. Questa è la stessa che hanno ricevuto da loro esistente all'inizio... Questa è la stessa che hanno ricevuto da loro esistente... Questa è la stessa che hanno ricevuto da loro esistente... Questa è la stessa che il mondo... Questa è la stessa che hanno ricevuto da loro esistente... It can't be that simple. Well, why can't it? By ourselves, we're no one. It's when other people look at us and see someone. That's the moment we each start to exist. All they needed was for someone to see them, connect with them. And the two of you were a big part of making it happen. Joshua, just who are you? Let's say, a friend. Wow! It's an angel! One dream is connected to another. Which means we must choose in which sleeping world you will begin. I will return you to the Destiny Islands just before they were swallowed by the darkness and plunged into sleep. Once dreams take you, you must let them guide you to the sleeping worlds. As there are seven pure lights, there are seven sleeping keyholes. Unlocking these will both grant you new powers and free the worlds from their wakelessness. Complete this task and return here safely. And I will name you both true masters. And I will name you both. As you little by the way. As you like, comment, 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 share and subscribe. If you have ready, subscribe! If you liked the video, don't forget to leave the bell. And see you next time! And see you guys, thanks to Eu. Grazie a tutti.